Allora tutto a posto, prendi posizione, contatto, chiami palla, chiaro? Vai, ecco, lo sapevo, guarda, lo sapevo, dammi sta palla, va, ragazzi, allora, prendi la palla, quando vado a prendere posizione sotto canestro, avete fatto tutto giusto, lui è andato a prendere contatto, ha chiamato il pallone con la mano esterna, vedete? In questo caso, come la dovevi passare tu? Tu l'hai passato con la destra, come la dovevi passare? Con la sinistra, ti faccio vedere, allora, in questo caso, che cosa leggi? La mano e quella esterna, vado a migliorare l'angolo di passaggio, vedi? Utilizzo la mano sinistra, guarda qua, e gli vado a passare la palla dove non è marcato, Ciao! Lo sbaglio che viene fatto maggiormente in questa fase di gioco, marcalo, è andare a passare, eccolo là, dove puoi intercettarla? Quindi ricapitoliamo, ok, miglioro l'angolo, eccolo là, ragazzi, dai, facile no?